Si chiamava Oliver Mayer, era un prete il quale è stato fatto fuori in Francia. Il corpo è stato ritrovato oggi nel mattino 9 agosto 2021 a Saint-Laurent-sur-Verset. Ci troviamo in Vandea, nella parte ovest del paese. Il ministro Gerard Armanin ha annunciato che si sta recando il loco dove per l'appunto il prete è stato fatto fuori. Il corpo sarebbe stato ritrovato su segnazione di un uomo che si è presentato, facendo sapere di averlo fatto fuori. Insomma, una persona che non c'è più, un immigrato che confessa, facendo sapere che l'ho fatto fuori io quell'uomo. Pensate che un anno fa diede fuoco alla cattedrale proprio di Nantes, in Francia, o di Nantes, che dir si voglia. Insomma, non c'è pace tra gli urivi, la frase che mi sento di utilizzare nel descrivere il fatto in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, Oliver Mayer, che tu possa riposare in pace.